Ciao da Apsim! Ah, hai visto? Anche De Laurentiis è indagato per le plusvalenze. Cosa rischia il Napoli, eh? Gli juventini che si spregano le mani dopo che sono stati mesi, mesi a dire che c'era una congiura contro la Juventus, che è tutta un'ingiustizia. Sono andati a cercare video e post social di mesi fa e anni fa dei giudici e dei PM coinvolti per scavare e vedere se erano juventini o anti-juventini o odiatori della Juventus. E poi hanno detto che però c'era il cavillo, che non si poteva iniziare ad indagare, che non si doveva proprio indagare la procura di Torino, che non doveva indagare la procura della VGC perché c'era quel ritardo, la carta Covisoc e poi non c'erano i fatti nuovi. La difesa della Juventus, ha detto più volte in giudizio, ha portato avanti questa difesa, questa linea difensiva. Non ci sono fatti nuovi rispetto all'archiviazione del 2022 e poi comunque è uscita la sentenza e stanno ancora dicendo ma le plusvalenze si fanno in due se dall'altra parte non condannano, non possono condannare da questa parte. E poi il processo è stato sommario, è stato troppo breve e non si possono acquisire, non si dovrebbero acquisire al processo sportivo documentazioni e indagini che sono ancora appunto non comprovate in dibattimento, non definitive perché siamo in fase indagini, perché nessun giudice si è pronunciato e bla 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 bla, tonnellate, fiumi, anzi oceani, oceani di dichiarazioni, di interpretazioni per lo più discostate dalla realtà, di vittimismo, anzi oceani di lacrime, piagnisteri e vittimismo. Adesso di che cosa leggiamo? Leggiamo della speranza di molti tifosi, opinionisti, commentatori e giornalisti, giuventini che si faccia col Napoli esattamente quello che è stato fatto con la Juventus. Ma è normale, se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate e vanno applicate, se ci sono delle regole procedurali si deve seguire la stessa procedura. Però non vi meravigliate se poi il Napoli non dovesse andare di nuovo a processo sportivo, come per esempio non c'è andato il Bologna con il caso delle archiviazioni Orsolini, perché sono fatti diversi, sono fatti diversi, ma comunque c'è un'ipocrisia grande quanto un oceano appunto, perché se avete detto che non bisognava procedere in quel modo contro la Juventus, perché adesso pretendete che si proceda in quel modo contro il Napoli? Dovreste dire, visto che abbiamo reclamato l'ingiustizia di tutta la faccenda, chiediamo per sportività, perché siamo superiori noi juventini, che anche il Napoli venga trattato come chiedevamo che venisse trattata la Juventus, e cioè non come è stata trattata ma in un altro modo, e invece no, adesso dicono, ah, ce l'avete fatta a noi, adesso lo dovete fare pure a loro. Cioè si gode veramente di poco, a parte che si gode dell'1-0 una vittoriumcola contro il Lecce, e anche molto meno, ormai si gode anche dei pareggi, figuriamoci se non si gode delle disgrazie altrui, e se non si manifesta un'ipocrisia veramente imbarazzante, veramente imbarazzante. Ora, quali sono i fatti? Intanto non c'è nulla di nuovo sul fatto che De Laurentiis sia indagato, semplicemente c'era stata un'indagine della procura di Napoli, poi anche qui, eh, ma la procura di Torino è stata più veloce e più efficace, e la Juventus è stata sanzionata nella stagione 22-23, mentre la procura di Napoli dorme perché lì ti fanno tutti per il Napoli, e quindi hanno consentito al Napoli di vincere lo scudetto senza chiudere le indagini. Anche questo è stato detto, non invento nulla, è stato detto, poi se fate finta di non vedere non è un problema mio. Ma dunque c'era già questa indagine per quanto riguarda l'acquisto di Ozyman da Lille nel 2020, un'indagine anche internazionale perché si indaga anche a Lille, quindi anche in Francia, dopodiché c'è questo passaggio di competenza territoriale. Competenza territoriale, ecco, la competenza territoriale, anche un'altra cosa, ribadisco, lo ribadisco perché sennò poi lo leggiamo un'altra volta sui giornali, la procura di Torino poteva e doveva indagare, perché non puoi sapere all'inizio delle indagini, prima di aver indagato e a volte prima di essere arrivato alla fine delle indagini, se hai la competenza territoriale per indagare. Quindi la legge, la legge non io, la legge, dice che bisogna iniziare le indagini quando si riceve la notizia di reato. Poi se nel corso delle indagini si scopre che però la competenza territoriale è di un altro, si possono passare, si possono passare le carte, si può passare l'indagine ad un'altra procura, oppure si arriva, come si è arrivati nel caso dell'inchiesta Prisma a Torino, alla Cassazione che ti dice definitivamente dove devi andare. E lì abbiamo anche detto che c'era incertezza se dovesse essere Torino, Roma o Milano, quindi questo fatto che i giudici IPM di Torino dovessero sapere che era Roma quando, prima del giudizio della Cassazione, poteva essere anche Milano, mi dovete spiegare com'è possibile, ma anche che fosse possibile erano tenuti ad indagare. Invece qui si pretende l'impunità, si è pretesa l'impunità, poi però vogliono che condannino il Napoli senza sapere nulla. A me non interessa dire che il Napoli deve essere mandato assolto, non deve essere proprio indagato, perché non lo so, io non so i fatti esattamente, e sono cose documentali, quindi è una cosa di contabilità, è una cosa di bilanci. Le indagini significa forse c'è un reato, forse c'è un reato e a un certo punto la procura dice c'è un reato secondo noi per cui ti chiediamo che tu vada a processo, e poi la procedura prevede se si deve andare a processo oppure no, e nell'ambito del processo si valuta e si decide. Cioè è una questione anche di garantismo. Invece no, la Juventus è di fronte a fatti conclamati, assolutamente innocente, non è successo nulla, è colpa dei giudici, è colpa di Gravino, è colpa della FGC, disdetta da solo. Il Napoli apre l'indagine e già ridacchiano, e già ridacchiano. Questa indagine di Napoli semplicemente a un certo punto è stata passata a Roma, ma come giustamente sottolinea l'avvocato Grassani e chi per il Napoli, insomma l'ufficio stampa, ha rilasciato a Lanza, poi Grassani ha parlato al Corriere dello Sport, delle dichiarazioni, c'è anche da sottolineare che sono venute meno tutte le contestazioni fiscali, perché c'era anche qualche altra ipotesi di reato davanti alla procura di Napoli, che non è stata passata a Roma. A Roma rimane solo l'ipotesi di falso in bilancio. Falso in bilancio che cosa significa? Può significare tante cose, il falso in bilancio lo puoi fare in tanti modi. Ci sono tante voci in un bilancio, quindi puoi falsificare il bilancio su tante voci e in tanti modi. Poi c'è la falsità materiale e la falsità ideologica. La falsità immateriale è quando sostanzialmente si va a falsificare il documento, ma non sarebbe questo il caso, sarebbe una falsità ideologica, cioè il contenuto. La falsità ideologica è la falsificazione del contenuto di un documento, di un altro. E quindi si potrebbe dire che c'è una falsità ideologica nel bilancio, anche se poi non è tecnicamente questa la distinzione, ma per far capire di che tipo di falsità si può parlare, nel caso in cui l'affare Osimena non è stato registrato secondo verità. Non è stato registrato secondo verità. Ma non c'entra la plusvalenza, non è un discorso di plusvalenze fittizie. Il discorso di plusvalenze fittizie diventa falsa in bilancio se c'è un errore, e quindi poi bisogna dimostrare anche il dolo, nella registrazione. Le cifre che ricorda Calcio e Finanza sono, per quanto riguarda le controparti, le controparti, quindi Ciro Palmieri 7 milioni di euro, con una plusvalenza piena. Orestis Carnezis 5,1 milioni di euro, con una plusvalenza da 4,8. Luigi Liguori 4 milioni di euro, questi sono andati tutti a Lille, con una plusvalenza piena. Claudio Manzi 4 milioni di euro, con una plusvalenza piena. Quindi c'è questa storia che sono stati mandati tre ragazzi che non valevano molto probabilmente, quasi sicuramente queste cifre, neanche il terzo portiere del Napoli, Carnezis, sia per quello che avevano fatto fino a quel momento, ma soprattutto per quello che hanno fatto dopo. I ragazzi hanno lamentato anche l'intervista del 2021, ci hanno bruciato la carriera, perché noi non sapevamo nulla, siamo stati venduti a Lille, ma a Lille non ci siamo neanche mai andati, si è detto, non abbiamo firmato i contratti, pure li abbiamo firmati a distanza. Insomma, una storia sicuramente oscura e tenebrosa. Ma attenzione, perché se il Napoli ha fatto una mercificazione dei suoi giovani, è una cosa immorale, ma potrebbe non essere una cosa illegale, potrebbe non essere una cosa illegale. La contestazione non è e non può essere avete bruciato dei giovani, non è quella. Avete venduto a cifre eccessive dei giocatori, non è quella, perché il punto non è le plusvalenze fittizie. E torniamo al processo del 2022, istruito malissimo dal procuratore Kiné, che andò a prendere i valori di Transfermarkt. Il problema non è se io valuto eccessivamente un calciatore o tu mi valuti eccessivamente un calciatore. Il problema è se c'è un sistema atto ad alterare i bilanci e ci sono alterazioni di bilancio. E queste alterazioni di bilancio poi devono anche avere un effetto significativo. Perché se sono delle singole alterazioni di bilancio, secondo il codice di giustizia sportiva si ricade nel caso dell'articolo 31,1 che ti dice che la sanzione è ammenda con diffida. Quindi uno dice cosa rischia il Napoli? Se ci sarà un processo sportivo e non verrà invocata la violazione della lealtà sportiva, articolo 4, ammenda con diffida. La pure e semplice falsificazione del bilancio, anche prima di una sentenza passata in giudicato, perché ribadiamo è possibile, è consentito ed è doveroso che la procura FIGC indaghi anche su risultanze probatorie parziali con le carte che dovranno essere passate dalla procura di Roma, vedremo nei prossimi mesi, ma se si va a verificare quindi la consistenza di una sorta di falso in bilancio, dal punto di vista sportivo, quindi il corrispettivo nell'ambito sportivo, può essere semplicemente una falsificazione ideologica nei documenti che devono essere presentati, tra cui il bilancio, e basta, ammenda con diffida. Perché potrebbe non essere per esempio invocato la violazione dell'articolo 4, che invece è stato invocato nel caso della Juventus? Perché la Juventus erano tante operazioni e si è intravisto e dimostrato un sistema, un sistema, e c'erano le intercettazioni. Eh ma hanno intercettato la Juve e il Napoli no! L'abbiamo già detto, ci sono dei requisiti per poter procedere a intercettazioni degli indagati nell'ambito del processo penale. Se eventualmente, io non lo so, ma se pare non ci siano intercettazioni con il Napoli, ma se non ci sono i requisiti per poter intercettare il Napoli specificamente, non è quotato in borsa. Che volete? Se non si può fare, non si può fare. Non è una questione dei giudici brutti e cattivi che odiano la Juventus. È una questione, caso mai, che la Juventus, rappresentata e amministrata da questa gente, dovrebbe sapere, tramite questa gente, che è esposta a maggiori rischi perché è quotata in borsa. E quindi, gli amministratori, questo dice la legge, gli amministratori di una società, quanto più è importante, tanto più si devono comportare bene, perché incorrono i maggiori rischi di sanzioni e di irregolarità, e di anche verifiche delle irregolarità tramite delle intercettazioni. Quindi bisogna farsi furbi. Non si possono mettere i peggiori nelle società migliori e più importanti. Si devono mettere i migliori, devono esserci i migliori, i più bravi, quelli che sbagliano di meno. Questo è il punto vero. Se non avessero fatto quelle telefonate, dicendo quelle cose, non avessero fatto quelle cose, cosa avrebbero potuto trovare i pubblici ministeri? Un cavolo! Non avrebbero trovato nulla nelle intercettazioni, non l'avrebbero neanche potute fare, o l'avrebbero fatto, avrebbero detto, ah beh, non abbiamo trovato nulla. Ma non gli sarebbe manco venuto in mente, perché non avrebbero trovato irregolarità su cui lavorare. Stiamo parlando anche delle manovre stipendiche che sono state coperte da una vergognosa amnistia di impunità, con 718 mila euro di ammenda, con il patteggiamento ridicolo. Quando lì si rischiavano decine di milioni di euro di ammenda andando a processo. Ora, quindi, per quanto riguarda il Napoli, Osimene quindi è stato pagato forse troppo, e quindi è stato iscritto in bilancio a costi eccessivi per il Napoli, pur di avere queste plusvalenze eccessive su questi quattro giocatori, e la stessa cosa poi riguarda le plusvalenze del Lille. Ma il caso, per esempio, Orsolini-Bologna, che cosa ci dice? Ci dice che ogni società risponde per quello che ha fatto sul suo bilancio, e non è una questione di Procura di Bologna, Procura di Napoli, Procura di Roma e Procura di Torino. È una questione di quello che tu hai fatto. Se la Juventus ha fatto numerose operazioni che avevano dietro un disegno che è stato dimostrato dalla sentenza della Corte Federale d'Appello del 20 gennaio 2023, mentre il Bologna ha fatto un'operazione di rimando alla Juventus, che può anche essere stata gonfiata, ma magari è stata pure registrata correttamente, e se il Napoli ha fatto una operazione incrociata, se ne ha fatta una incrociata, registrata magari regolarmente, registrata ma è chiaro che l'approccio deve essere diverso, è chiaro che una cosa è quello che ha fatto la Juventus, una cosa è quello che ha fatto il Napoli. Poi la procedura sarà la stessa. La Procura FGC sarà lì ad aspettare le carte. Se dalle carte emerge qualche cosa per cui procedere, si procederà. Dopodiché, se invece, se invece, di fronte ad una situazione grave, non si procede, allora è giusto invocare eventualmente l'ingiustizia, parlare eventualmente di ingiustizia e indignarsi, e sarei il primo ad indignarmi, essendo anche giurista, quindi avendo anche la sensibilità, diciamo, del rispetto delle regole e delle procedure, ma non preventivamente di dire, ecco, adesso devono fare con il Napoli la stessa cosa, dopo che, ripeto, per mesi si è detto che con la Juventus, che la Juventus è stata trattata male, non si doveva fare quello che invece è stato fatto. Io sono anche un po' stanco di dover mettere sta maglia, Juventino deviato, che dà un messaggio per, diciamo, per far capire qual è il senso del video, nel senso, per evitare che qualcuno venga qui a pensare che io da Juventino, normale, tra virgolette, possa dire, pensare, cioè, il discorso è che, purtroppo, devo partire da un punto di vista che mi devo già discostare, mi devo già dissociare da certe cose, e sono mesi che continuo a ribadire certi concetti, perché sono mesi che sui giornali si scrivono le stesse cavolate, sono mesi che sui social si leggono le stesse cavolate, che non sono cavolate perché io non sono d'accordo, sono cavolate perché sono cavolate, perché sono falsità, e ora l'ipocrisia, veramente, la contraddizione assurda di andare a pretendere per il Napoli lo stesso trattamento che per la Juventus si giudicava con scandalo, ci si scandalizzava. Si vedrà quello di cui si tratta. Intanto, per quanto riguarda De Laurentiis, è caduta già un'ipotesi di accusa, siamo ancora nelle indagini, quindi può essere pure che Roma indaga bene e non trova nulla e chiede l'archiviazione. C'è questa possibilità. Dopodiché, pur con l'archiviazione, è possibile che però sul piano sportivo ci siano delle violazioni, che però per il momento, ripeto, per quello che sappiamo, ipoteticamente, è un'ammenda non diffida. Se c'è stata una falsificazione del bilancio a livello, diciamo, documentale, e basta. È difficile parlare di slealtà sportiva. I punti di penalizzazione scattano con la slealtà sportiva oppure con una alterazione documentale che ti ha consentito di iscriverti al campionato lì dove non avresti potuto iscriverti senza quell'alterazione documentale. L'abbiamo già spiegato la differenza tra l'articolo 31,1 e 2 del codice di giustizia sportiva. La Juventus è ricaduta nell'articolo 31,1 ma con l'articolo 4 a rafforzare perché c'era un disegno dietro, perché c'era un sistema dietro. Tant'è vero che non erano solo le plusvalenze e non erano per niente le plusvalenze. Non erano per niente. Era il sistema di fare player trading. Ma poi c'erano pure le manovre stipendi che ovviamente erano un altro filone e lì, ripeto, la coperta dell'impunità. Però comunque c'era tutto quanto un sistema di gestire in un certo modo e le intercettazioni, i documenti, le email dimostravano questo. Se ne è parlato, cioè è sentenza passata in giudicato e così 10 punti di penalizzazione l'ammenda di quello che è stato e la sanzione personale dei singoli dirigenti che sono stati coinvolti. Mentre per quanto riguarda il Napoli al momento sarebbe un articolo 31,1 sarebbe un articolo 31,1 ammenta con diffida. Quindi anche se la procura di Napoli ha fatto tardi e adesso la procura di Roma ci mette altro tempo che poi curiosamente la procura di Roma dovrà indagare sia sul Napoli che sulla Juventus a questo punto. Quindi si vanno pure ad incontrare e ad ingolfare. Non cambia nulla perché lo scudetto al Napoli non glielo avrebbe tolto nessuno vista questa situazione. A meno che non si dovesse riscontrare l'articolo 4 ma io personalmente la vedo difficile. Con una singola operazione parlare di slealtà è difficile onestamente perché tanto Osimè nel Napoli l'avrebbe comprato lo stesso. Queste plus valenze stiamo parlando di quanto di plus valenze? Stiamo parlando di circa 20 milioni di euro di plus valenze. E' un importo importante. Cioè se queste plus valenze il Napoli non aveva diritto di farle o aveva diritto di farle molto meno che ne sono su 4 calciatori 5 milioni di euro 6 milioni di euro ecco questa differenza di 10-15 milioni di euro quanto ha spostato questo poi è il punto dal punto di vista penale e dal punto di vista sportivo. Quello che sarà si vedrà serenamente perché altrimenti se si fanno se dopo essere stati garantisti anzi diciamo innocentisti innocentisti e impunitisti e impunitisti non si può poi diventare forcaioli colpevolisti e giustizialisti dall'altra parte perché come dico da sempre da quando parlo di questa vicenda quasi un anno ormai perché insomma è da novembre dicembre 2022 bisogna togliersi la maglia del tiposo quando si parla di queste cose soprattutto se si è giornalisti grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti su questa questione sicuramente non piacevole sicuramente non serena buon dibattito anche sul discord link in descrizione con tante chat per parlare di calcio speriamo di parlare di calcio mettete like e condividete il video se vi è piaciuto iscrivetevi attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi seguitemi sul mio secondo canale Absimout primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out